Le novità nei settori dell'energia sostenibile, dell'efficienza energetica, la bioedilizia, del riciclo e del recupero di materiale al centro del decimo salone Progetto Comfort in programma a Catania 12, 13 e 14 aprile al centro fioristico Leciminiere. Nei suoi tre giorni di svolgimento la manifestazione offrirà un'occasione di confronto e dibattito per addetti ai lavori, ricercatori, tecnici specialistici e utenti finali e si annuncia tra le vetrine più qualificate in materia di soluzioni tecnologiche che coniughino il benessere dei cittadini con un consumo sostenibile delle risorse a disposizione. Siamo veramente entusiasti, finalmente è arrivato il grande giorno di presentare il salone Progetto Comfort alla città di Catania, la tappa finale sarà qui Catania dal 12 al 14 aprile al centro fioristico Leciminiere. Abbiamo fatto diverse tappe, Comondo a Rimini a novembre del 2017, dal 13 al 16 marzo scorso eravamo espositori a mostra convegno e adesso la tappa finale sarà Catania dal 12 al 14 aprile. Quindi siamo molto entusiasti perché abbiamo raccolto tante adesioni, ci saranno quasi 200 espositori di tanti visitatori che verranno da tutte le parti delle varie nazioni. Ci sarà un villaggio green al primo piano che sarà dedicato soprattutto alle scuole, alle famiglie per sensibilizzare chiaramente anche la raccolta differenziata e tutto quello che riguarda il mondo dell'ambiente e del sano vivere.